Un ringraziamento a tutti quelli che hanno creato questo momento di riflessione forte, sentito, di un santo che ha dato l'esempio a tutti gli adraniti per come è possibile vivere in carità guardando a un futuro migliore. Noi adraniti abbiamo avuto e abbiamo tutt'oggi questo sentimento forte nei confronti di chi ci ha lasciato un segno indelettile. Nella carità di Niccolò Politi sarà sempre accompagnato da una storia che vogliamo tramandare alle nuove generazioni. Ritengo che anche questa sera il prodotto a sua immagine ha colpito nel segno, ha voluto dare a tutti i giovani un inizio di interesse rispetto a quella che è una storia vissuta, una storia vissuta che resta indenebile nei secoli.